Buonasera, diamo subito un'occhiata ai dati sanitari che confermano il miglioramento dei valori sia sul fronte del soccorso sia sul fronte dei nuovi positivi. I contagiati sono fermi a 226. Il totale dei nuovi positivi registrati nel periodo degli ultimi dieci giorni scende quindi a 8. I guariti crescono e arrivano a quota 125, mentre per fortuna non si registrano ulteriori decessi. I nostri concittadini sottoposti a quarantena sono 36. Dobbiamo fare in modo che questi dati continuino a migliorare e credo che siamo sulla buona strada e che sia sufficiente continuare a rispettare le misure di sicurezza per farcela. Devo raccomandarvi di gestire correttamente la mascherina. Quando si è fuori di casa è obbligatorio indossarla. La mascherina deve coprire il naso e la bocca, non solamente il mento come a volte mi capita di vedere. Si può togliere o abbassare la mascherina quando si è al ristorante o al bar, seduti al tavolo o al bancone, ma sempre facendo massima attenzione a rispettare la distanza di sicurezza. Quando ci si alza dal tavolo occorre indossare nuovamente la mascherina. Quando si consuma un gelato o un caffè per strada o per chi fuma una sigaretta, la mascherina può ovviamente essere abbassata o allentata, ma occorre stare a distanza dagli altri. Per favore, evitate di consumare o fumare passeggiando in mezzo agli altri. In quei momenti state ancora più attenti a tenere la distanza di sicurezza. Suggerisco di fermarvi in un posto tranquillo e lontano dal passaggio delle persone. Un altro dei momenti più pericolosi è quando si parla con altre persone. Parlando si emettono più gocce di saliva ed è più facile entrarvi in contatto. So che è più difficile parlare con la maschera che copre il naso e la bocca, ma è proprio in quel momento che la mascherina è indispensabile. Se state parlando con altre persone all'aperto, state distanti e mantenete la maschera sul naso e sulla bocca, anche se vi sembra di fare più fatica per parlare. Domani si svolgerà il mercato, che ritorna nella sua disposizione tradizionale. Devo ringraziare gli ambulanti e la polizia locale per il lavoro che hanno fatto, per disporre tutto in modo da garantire la necessaria sicurezza. Il risultato di questo lavoro dipende soprattutto da voi. Vi prego di seguire le indicazioni che verranno date dagli addetti al controllo e se vi viene chiesto di attendere prima di entrare in un settore del mercato, sappiate che è per la vostra sicurezza. Quella di domani è una prova importante. Se vi saranno criticità, dovremo rivedere questa soluzione. Ricordo anche agli ambulanti che abbiamo sospeso la tassa sul suolo pubblico spostando le rate al 15 di settembre. Stiamo verificando la possibilità di azzerare questa tassa per chi ha subito i danni dell'emergenza e nelle prossime settimane dovremmo avere più certezza. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità lo spostamento della scadenza dell'acconto IMU per la quota comunale. Per chi è in difficoltà, quindi, la prima rata IMU solo per la quota comunale viene spostata al 30 settembre. Vi ricordo che la maggior parte degli immobili paga unicamente la quota comunale, ma vi sono immobili di categoria D che pagano anche una quota statale. Purtroppo non è in nostro potere rinviare la scadenza per la quota statale, che resta quindi al 16 giugno. Con questa operazione vogliamo dare una mano a chi è in difficoltà, ma questo comporta una sofferenza nelle entrate di cassa del Comune. Nelle prossime settimane dovremo verificare gli andamenti di cassa prima di poter fare ulteriori azioni di aiuto a chi ha bisogno. Vi prego quindi, se non siete in condizioni di difficoltà, di provvedere al pagamento della rata IMU senza aspettare il 30 settembre, aiutando quindi il Comune a rientrare dei fabbisogni di cassa. Martedì è il 2 giugno, la Fessa della Repubblica. Negli anni passati festeggiavamo con un grande concerto offerto dal Civico Corpo Musicale di Vimercate ed era l'occasione per la premiazione del concorso sulla Costituzione italiana dedicato alle scuole. Devo ringraziare le insegnanti e gli studenti per l'impegno che hanno messo nel portare ormai a termine quest'anno scolastico e recupereremo il concorso negli anni prossimi. Il Civico Corpo Musicale invece ci sta preparando una versione digitale del concerto che potremo ascoltare per festeggiare il 2 giugno. Per chi lo desidera poi, la mattina del 2 giugno alle 10 si celebrerà una messa al cimitero di Vimercate. Come vi ho anticipato dovremo rispettare tutte le restrizioni per le celebrazioni all'aperto, quindi dovremo limitare le presenze per evitare eccessivo affollamento. Ringrazio la Polizia Locale, i Carabinieri e tutti i volontari che si sono offerti per organizzare il servizio d'ordine. Stiamo anche verificando la possibilità di trasmettere la messa in diretta streaming in modo che chi non può essere presente o chi non potrà entrare nel caso di affollamento eccessivo possa seguirla in digitale. Per tutti i dettagli o per qualsiasi altra informazione vi prego di fare sempre riferimento agli aggiornamenti sul sito o sui canali social del Comune. Grazie.